Grazie Presidente, mi fa piacere iniziare l'introduzione, l'illustrazione della mozione con le parole di Malagodi ieri che in occasione della conferenza stampa di presentazione di Piazza di Siena ha parlato di un maggio pazzesco e pieno di eventi sportivi a Roma citando il, appunto, oltre al concorso di Pico Internazionale di Piazza di Siena, l'ultima tappa del Giro d'Italia che tradizionalmente si corre a Milano, invece quest'anno sarà ospitata dalla città di Roma in un circuito di 11 chilometri che appunto partirà e arriverà nella capitale. Ci sarà il finale di Coppa Italia di calcio, ci sarà il Golden Gala di atletica e naturalmente gli internazionali di tennis. Tutto questo, appunto, ha aggiunto il Presidente Coni, mette Roma al centro di quello che è il mondo sportivo. È innegabile e siamo contenti come Coni, noi naturalmente siamo contenti come Roma Capitale e per questo motivo, anche per questi motivi, chiediamo dell'istituzione di una cabina di regia per i grandi eventi su strada tenuto conto anche del fatto che la programmazione sportiva per l'anno prossimo già vede un sovrapporsi di grandi eventi per il mese di aprile del 2019 dove avremo la Maratona di Roma, il 7 aprile il 13 e il 14 la gara di triathlon ad Ostia sempre il 14 la Appia Run e il 13 aprile il Gran Premi Formula E quindi contentissimi che Roma sia protagonista a livello nazionale e internazionale di questi grandissimi eventi ma a questo punto urge un coordinamento e per questo motivo vogliamo che venga istituita una cabina di regia alla quale partecipino, oltre all'amministrazione locale, il Coni e le federazioni sportive delle discipline interessate quindi corto, atletica leggera, ciclismo e triathlon. Grazie